di Virgilio. Abbiamo gli accenti segnati, in blu la pausa che può essere appunto in genere quella mediana ma vedremo può essere anche spostata. Ricordatevi che l'esametro è un metro molto duttile e quindi gli accenti si spostano e le pause pure. Le leggeremo insieme. Avete notato dunque che nell'ultimo verso che ho letto, il 5, abbiamo la doppia pausa cioè la combinazione della pausa dopo la seconda arsi cioè dopo l'accento del secondo piede, la lunga del secondo piede e dopo la quarta arsi cioè dopo la lunga accentata che fa da inizio del quarto piede. Abbiamo anche visto in verdino l'aggiunta della cesura bucolica al verso 4 che isola come vedete il nome di Titiro in quarta posizione. In giallo ho ricostruito, non lo faccio sempre ma ogni tanto per ricordare, per farvi vedere, ho ricostruito lo schema di questi tre versi che abbiamo appena letto. Riprendo a leggere da sei. Anche in questa battuta di Titiro vi faccio notare che le elisioni sono indicate con una specie di freccettina di cuspide alla nostra sinistra e poi ho cancellato la vocale diciamo che non si legge. Ogni tanto ho fatto in giallo la divisione dei piedi. Nell'ultimo nel verso 10 vedete che ho risottolineato il rosso il quinto piede che è quello che dovete ricordare è sempre un dattilo puro e abbiamo anche al verso 7 una cesura bucolica che è sottolineata dal punto e virgola e che ricordo è una ulteriore pausa che si aggiunge a quelle che sono blu, quelle canoniche, è un'ulteriore pausa che è alla fine di parola e fine di frase, di senso tra quarto e quinto piede. Riprendo a leggere da undici, non equidimvideo, notate l'elisione di Emma, quindi non equidimvideo, mirormagis undiquetotis, usquadeo, turbatus agris, enipse capellas, con la combinazione della doppia pausa, tritemimera, eptemimera o eftemimera, cioè la pausa in secondo accento, in quarto accento la eptemimera o eftemimera e quindi con una divisione di due accenti più due accenti più due accenti, due più due più due protenus e geraganc e zianvix titire duco, icch interdensas, corilos modo nanque gemellos, spem gregisa silicin nuda, con ixa reliquit. Sepe maloc nobis, simens non leva fuissat, decelotactas memeni predicere quercus, sed ameniste deus, quisida titire nobis. Ripeto, con la cuspidina rossa abbiamo indicato il verso 16 e anche al verso 13 delle elisioni, anche al verso 15, la doppia pausa è indicata al verso 15. Ci sono cesure bucoliche in verde. Prima di cominciare a leggere vi faccio notare che il nostro libro di testo propone per il verso 19, il primo che leggeremo, una pausa in una posizione diversa da quella segnata in blu da me, cioè il nostro testo, guardate in alto nel quadrino verdino a destra, ci fa vedere che una pausa anche di senso, segnalata dalla virgola in realtà nel testo, ma insomma una pausa di senso, non sarebbe tanto dopo dicunt, cioè pausa mediana dopo il terzo accento, ma dopo il quarto accento, romam, dopo romam. Dunque si verrebbe a creare un verso un po' particolare perché la pausa sarebbe in settimo mezzo verso, eptemimera, sarebbe dopo la quarta arzi, dopo il quarto accento dell'esametro, ma di solito questa pausa eptemimera sta combinata, ricorderete, con la pausa dopo il secondo, per cui il verso veniva diviso in due accenti più due più due. Qui sarebbe soltanto la pausa eptemimera, secondo il nostro testo. Ora questo è un po' un eccezione, ma non è così raro in Virgilio. Qualche volta troviamo o un verso con una sola pausa di quelle che in genere vanno in coppia, cioè una pausa che non è unica al terzo accento, ma è unica dopo il secondo accento, oppure è unica dopo il quarto accento, come in questo caso, oppure più frequentemente, come nel caso che io credo di indicare al verso 19, con la pausa comunque mediana canonica, più un'ulteriore, diciamo lieve pausa, interruzione, in un'altra posizione. Quindi una doppia pausa, non con la tritemimera, ma con una pausa mediana, con la pentemimera. Quindi io proporrei di leggere così, urbem quam dicunt romam melibei putavi, quindi con una pausa sia dopo dicunt che dopo romam, e quindi per accontentare tutti, sia la Persichetti, che vede il verso canonico con la pausa mediana, sia il nostro testo che insiste sulla virgola, sulla pausa, interruzione dopo il quarto romam. Riprendo dunque a leggere di fila, eh? Urbem quam dicunt romam melibei putavi, stultus e guic nostre, similem cosepe solemus, pastoresso vium, teneros de pellere fetus. Sic canibus catulos, similes sic matribus edos, noram sic parvis, compone remagna solebam. Verec tantalias, notate la doppia elisione, verec tantalias, intercaput extuliturbes, quantum lenta solent, interviburnacupressi, equetantafuit romam tibi causa videnti, libertas, queseratamen, respexitinertem, combinazione di doppia pausa, tritemimera, epetemimera, ueftemimera. Candidi orposquam, tondenti, barbacadebat, respexitamenet, longopos temporevenit. Vedete che anche qui possiamo, come dire, fare una pausa mediana come ci fa comodo sempre e poi anche fermarci un attimo perché abbiamo l'ongo che con una parola che finisce col quarto accento e quindi si può fare una seconda breve pausa come se fosse una pentemimera mediana più una epetemimera. Posquam nos, amarilli sabet, galatea reliquit. Qui abbiamo invece la combinazione canonica 2 più 2 più 2, cioè la combinazione della pausa in seconda battuta, seconda arsi e in quarta battuta. Nanque fateborenim, dumme galatea tenebat, nexpes libertatiserat, neccura peculi. Ecco qui ve l'ho proprio messo, quarta arsi, vedete a destra? Cioè qui non riusciamo a fare pause se non dopo il quarto accento e quindi è una pausa epetemimera pura come quella che il libro ci segnalava nel caso di Romam di prima che invece non era proprio obbligatoria. Quam vis multa meis, exiret victima septis, pinguiset ingrate, premeretur case usurbi, non un quam, gravisere domum, mi destra redibat, combinazione di doppia pausa. Mirabar quid mesta deos amarilli vocares, anche qui, cui pendere sua patereris in arbore poma, titirus in caberat, ipsete titirepinus, ipsete fontes, ipsec arbusta vocabant, dove vedete la elisione della A di ipsa, perché ricordatevi che l'H non conta, ipsa si fonde con ec, quid facerem, neque servizio, mexire licebat, doppia pausa, nectan presentis, alibicognoscere divos, inchillumvidi, juvenemme libecotannis. Vedete che anche qui, come nell'altro caso, mannaggia, non so perché si è cancellato un accento, attenzione, juvenemme, emme è accentato, la emme, dicevo unchillumvidi, juvenemme, qui la pausa si può fare dopo vidi e abbiamo la solita pausa mediana e si può fare anche dopo juvenemme, c'è anche la virgola, cioè ci sarebbe una combinazione di pentemimera, cioè la pausa mediana dopo il terzo e più un'altra breve pausetta, dopo il quarto accento che qui non so perché nella foto non è venuto, juvenemme. Questo quindi è un caso simile a quelli che vedevamo prima, insomma. Siccome non è obbligatoria, l'ho indicata questa ulteriore pausetta con un puntino blu, bis e nos, qui nostra di S, altaria fumant, questa invece è la combinazione normale, diciamo così, due più due più due, come al verso 40, così al verso 43. Ik mi responsum, primus deditille petenti. Qui vedete un puntino verde perché primus dedit è il quarto piede e si ferma la parola, finisce la parola. Certo non possiamo parlare di cesura bucolica con sicurezza perché non c'è una fine di frase, c'è solo una fine di parola, però qualche critico la segnala, quindi ci ho messo il puntino verde. Ik mi responsum, dicevamo, primus deditille petenti. Possiamo fare una brevissima pausa. Pasci tutante bovesse, pueri. Vedete piccola pausa, summittite Tauros. Fortunatesenex, ergotua erura manebunt, etibimagna satis, quam vis lapisomnia dudus, limo soque palus, obducat pasqua iunco. Non in sueta graviss, tentabunt, pabula fetas, nec malavicini, pecoris contagialedent. Fortunatesenex, icchinter flumina nota, et fontissa cross, frigus captabit supacum. Inctibi quesemper, vicinab limite sepes, ible issapibus, florem de pasta salicti, sepelevi somnum. Sua debi tinire susurro. Incaltà, subrupe canet, frondato radauras, nec tameninterea, rauceto acura palumbes, nec gemereria. Ecco, qui mi sono scordata. Avete sentito come ho letto? Gemereria. Quindi la e di gemere si fonde con eria. C'è la sinerisi, o se volete l'elisione, insomma, potete cancellare la e finale di gemere. Nec gemereria. Cessabit turturabulmo. Antelevesergo, pacientur in etere cervi, et fretà destituent, et fretà destituent, nudosillitore piscis. Ante pererratis, amborum finibus exul, autararim partus, bibetaut Germania tigrim, quam nostrilius labatur pectore voltus. At nos incaliis, sitientis ibimus afros, pars sciziet rapidum. Spero di averlo fatto sentire bene. Pars sciziet, elisione, eh? Rapidum. crete veniemus o axen, et penitustoto divisus orbes Britannos. Orbe Britannos. En unquam patrios, longo post tempore finis, paupuris et tuguri con gestum cespire culmen. Cespite culmen. Eccoci. Notate che qui c'è un'altra stranezza perché non possiamo trovare una fine di parola che coincida con un accento, una sillaba accentata, se non in seconda posizione, cioè al secondo accento. Quindi stavolta dobbiamo fare una tritemimera, una pausa in seconda arzi. Vi ricordate che prima abbiamo trovato un verso dove c'era una pausa in quarta arzi. Di solito la pausa in seconda più quella in quarta vanno in combinazione, la tritemimera più l'eptemimera. Lo vediamo per esempio al verso sopra, no? Al 69, dove abbiamo 2 più 2 più 2 post aliquot, me regna videnz. Invece qui abbiamo soltanto la possibilità di creare una pausa laddove cade il secondo accento e quindi è un po' una stranezza, una tritemimera. È vero che c'è una possibilità di fare un'altra pausetta anche se non c'è quella conclusione bella di senso, di frase, oltre che di parola, che ci indica la bucolica, che sarebbe la chiusura e la pausa in fine di quarto piede. Qui c'è novalia, finisce la parola in quarto piede. Ho messo un puntino verde, quindi potremmo fare in più secta, culta, novalia, milte, milessa, bebit, per far sentire un po' un doppio, un doppio, diciamo, respiro. Barbarus as, segetes, enquod discordia civis, produxit miseros, is nos concevimus agros, insere nunc, melibee piros, ponordine vitis. Anche qui la doppia pausa, combinazione di tritemimera in secondo accento, seconda arzi, e eptemimera o eftemimera come preferite, in quarta arzi. quarto accento, dunque. Iteme condam, finalmente riprendiamo il ritmo normale, non è vero, abbiamo una cesura bucolica qui, eh. Iteme condam, felix pecus, ite capelle. Ecco, avete sentito felix pecus, il quarto piede, è anche una specie di chiusura di frase. A pecus, le due brevi del quarto piede, c'è anche la virgola, insomma, c'è una cesura bucolica. Non ego vos, postac, viridi proiectus in antro, dumosa, pendere procul, derupe videbo. Qui c'è la combinazione di prima, doppia pausa. Carmina nulla canam, non me pasciente capelle, florentem citiset, elisione, salices carpetis amara. Ictamen anc mecum, poteras requiescere noctem, fronde super viridi, sun nobis, mizia poma, castaneemolles et pressi copia lactis. Et iansumma procul, villarum culmina fumant, maio resco e cadunt, altis de montis bus umbre. E con questo finisce la prima bucolica.